Buonasera a tutti, è partita la registrazione quindi possiamo iniziare con la saluta del Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario per l'appello. Buonasera, Verona, Alberini, Bacchiavini, Benatti, Bertoli, Cavazzoni, Crema, Dallasta, Maestri, Mantovani, Murgia, Pavesi, Erika, Allegretti, Diafrate, Rodolfi, Benaglia, Soliani, grazie. Assessori, non so se segnati. Fornasari, Lanzoni, Negri, Assente, Pavesi, Emedici. Grazie, scusate. Grazie segretario, avendo il numero legale possiamo iniziare la seduta di martedì 28 febbraio, do la parola al sindaco per le sue comunicazioni. Grazie. Buonasera, molto velocemente volevo ricordare al Consiglio Comunale che il 9 di marzo ricorrerà il decimo anniversario della strage del mercato, quindi come ogni anno ci troveremo alle 11 nei pressi della lapide che ricorda quel giorno per una breve commemorazione, quindi faremo poi una comunicazione anche tramite la mailing list del Consiglio, lo comunicheremo alla cittadinanza attraverso i nostri canali, però mi premeva dirlo visto che quest'anno sono proprio il decimo e quindi sarebbe opportuno che fossimo in un numero adeguato anche a questa ricorrenza che ha così segnato la nostra comunità. Grazie. Grazie sindaco, io non ho comunicazioni, quindi passiamo direttamente al punto 3, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 3 del 17 gennaio 2023. Dò la parola al sindaco per l'illustrazione. Si tratta di una variazione che è stata fatta con urgenza perché era necessario liberare delle risorse per un importo e l'altro importo è recepire un contributo regionale che è arrivato per incrementare, tenere conto delle variazioni di un progetto di efficientamento e anche di manutenzione straordinaria dell'immobile in cui è collocato il nostro centro per l'impiego. Come ricorderete la Regione Emilia Romagna attraverso il suo assessore competente Colla ha ritenuto di implementare anche alla luce del patto per il lavoro e per il clima che la Regione ha definito, implementare i centri per l'impiego e di collocarne dei nuovi laddove non ci sono. Nel nostro caso specifico il centro per l'impiego è presso l'ex ospedale in una serie di locali molto capienti, insomma in una posizione strategica però appunto era necessario fare un intervento per il quale la Regione ha trasferito circa 200 mila euro e quindi è stato predisposto il progetto e quindi fatto il computo, insomma tutti i passaggi necessari per poi affidare i lavori e realizzare quanto stabilito. Nel frattempo si sono registrati degli aumenti considerevoli dei prezzi non sto a motivare, insomma la guerra in Ucraina e la contingenza hanno fatto sì che ci fossero questi aumenti quindi la Regione ha ritenuto di implementare il contributo di 86 mila euro che appunto abbiamo dovuto inserire immediatamente proprio per procedere con l'intervento e con i passaggi necessari invece l'altro importo che invece è in meno nel senso che sono risorse che abbiamo dovuto reperire funzionali alla restituzione di oneri di urbanizzazione che erano stati pagati da cittadini, da un cittadino per lavori che però non sono stati poi realizzati ragion per cui era necessario procedere a questa restituzione visto che la cifra è cospicua, sono 18 mila euro e per questo insomma l'urgenza è proprio dovuta al fatto che fosse necessario procedere in un modo o nell'altro. Grazie. Apro la discussione Ci sono richieste di intervento Consigliere Soliani Solo un dettaglio Sul primo punto ritengo che io che voglio dire la delibera si giustifichi ampiamente e quindi insomma sono orientato a votare a favore ma non capisco bene dice quei 18 mila circa euro 18 mila circa euro che debbano essere restituiti in maniera tempestiva non capisco perché dovevano essere restituiti tempestivamente al punto da giustificare una delibera di giunta che richiede urgenza effettivamente e che poi passa in consiglio comunale per la ratifica che non ha messo in modo Allora la delibera di giunta urgente cioè la variazione urgente era in primis sulla ricezione del contributo regionale a copertura dell'intervento ovvio che nel mentre che si è proceduto a fare questa variazione si è inserito visto che i 18 mila euro dovevano essere restituiti a un cittadino abbiamo ritenuto di inserirli quindi niente cambiava se l'avessimo fatto in un tempo o altro cioè niente cambiava dal punto di vista del cittadino forse gli ha fatto piacere averli il prima possibile e ci sembra corretto anche aver proceduto in tal senso anche perché non era una situazione per la quale visto che c'era già questa variazione è stata inserita anche la voce del 18 mila euro perché non aveva senso tergiversare rispetto a quell'importo Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la ratifica deliberazione di giunta comunale numero 3 del 17 gennaio 2023 astenuti contrari favorevoli l'unanimità votiamo anche per l'immediata eseguibilità astenuti contrari favorevoli l'unanimità pertanto dichiarata approvata e immediatamente eseguibile punto numero 4 mozione a sostegno delle produzioni agricole e zootecniche del territorio della regione Emilia Romagna e di tutto il territorio comunale e contro la carne sintetica presentata dal sindaco Camilla Verona lascio la parola di nuovo al sindaco per l'illustrazione della mozione direi che darò lettura del documento introducendolo puntualizzando che questo documento è stato è portato da me in questo consesso proprio perché negli ultimi tempi si parla molto di questa tematica e da parte delle associazioni di categoria degli agricoltori abbiamo appunto ricevuto diverse sollecitazioni in tal senso comunque ne do lettura anche a favore di chi eventualmente è a caso oppure non l'abbia letta negli ultimi anni si registrano investimenti sempre più consistenti nel campo del cibo sintetico sostenuti da diversi protagonisti del settore ITEC e della nuova finanza locale l'esempio più evidente è quello della carne artificiale dove solo nel 2020 sono stati investiti 366 milioni di dollari con una crescita del 6.000% in 5 anni le campagne di marketing a favore del cibo sintetico puntano a modificare gli stili alimentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione già all'inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello dell'Unione Europea le prime richieste di autorizzazione all'emissione in commercio di carne coltivata appunto si dice sintetica il termine può essere anche un po' forveante ma appunto coltivata perché cellule animali vengono attraverso certe procedure appunto coltivate tale da arrivare alla parte di animale che può essere di utilizzo nell'alimentazione quindi come carne sintetica artificiale o in vitro nonché la relativa approvazione dell'autorità europea per la sicurezza alimentare la EFSA evidenziato che la regione Emilia Romagna e il comune rappresentano un importante polo zootecnico dove è concentrata la maggior parte degli allevamenti italiani evidenziato poi che il settore zootecnico svolge un ruolo fondamentale da un punto di vista ambientale economico e sociale come elemento identitario radicato nella cultura nella tradizione europea nonché presidio per la prevenzione dello spopolamento delle aree rurali evidenziato che il gran numero di allevamenti che esistono in regione Emilia Romagna nel nostro comune la loro specializzazione in presenza di industrie di trasformazione fanno della zootecnia un settore vitale dell'economia regionale e locale le produzioni zootecniche della regione si caratterizzano inoltre per prodotti di alta qualità e di diffuso consumo nazionale parmigiano prosciutto di parma eccetera eccetera la regione Emilia Romagna ha indirizzato da sempre le proprie politiche verso la valorizzazione delle produzioni di qualità esse possiedono un legame stretto con il territorio e sono ottenute con pratiche di allevamento rispettose dell'ambiente e delle esigenze del consumatore del benessere animale la gran parte dei produttori del territorio della regione Emilia Romagna aderisce a sistemi di produzione di qualità regolamentate certificata DOP IGP biologico integrato la qualità dei prodotti in particolare di quelli agroalimentari legati al cibo rappresenta un tema di crescente attualità rispetto al quale si concentrano le attenzioni ma anche le preoccupazioni dei consumatori i quali sollecitano a tutti i livelli l'assunzione di iniziative di tutela valorizzazione informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza ritenuto che gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale posti a fondamento dell'introduzione nei sistemi alimentari del cosiddetto cibo sintetico possono essere soddisfatti anche con strumenti diversi in linea con le esigenze di protezione della salute umana ed animale nonché della produzione agroalimentare del nostro territorio tutto ciò premesso impegna questo consiglio a promuovere tutte le misure idonee finalizzate a sensibilizzare oltre che i consumatori il mondo scientifico e sanitario affinché sia posta la massima attenzione sui rischi dell'introduzione del cibo sintetico nella salvaguardia della salute pubblica e garantendo il principio della precauzione a sostenere in ambito di conferenza stato-regione tutte le iniziative che abbiano come obiettivo la salvaguardia delle attuali metodi di produzione agricola e zootecnica ad impegnare in tutte le sede competenti il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare forestale e le istituzioni europee preposte a sostegno delle produzioni agricole e zootecniche del territorio della regione Emilia-Romagna e di tutto il territorio comunale prevedendo adeguate risorse per rendere le produzioni sempre più di qualità e svolte nel rispetto dell'ambiente e penso che sia necessario fare una puntualizzazione le preoccupazioni riguardo al cibo detto insomma detto sintetico sono sicuramente riconducibili all' all'impatto che questo potrà un domani avere sulla nostra salute quindi la necessità di intervenire e di procedere con molta attenzione e molto cautele e ovviamente ben consapevoli che insomma una produzione diversa da quella tradizionale possa eventualmente far fronte alla questione dell'aumento spropositato della popolazione mondiale però anche tenuto conto che si può lavorare per anche produrre meno scarto meno rifiuti soprattutto alimentari noi crediamo che ancora debba essere fortemente salvaguardata la l'allevamento tradizionale quindi insomma il consumo di in questo caso carne di cibo che sia di origine naturale ecco non fatta in un laboratorio ovviamente ponendo rispetto anche alle produzioni cioè non è che noi ci vogliamo nascondere dietro un dito e anche non riteniamo che insomma anche la scienza si fa deve fare anche degli studi in tal senso però la riserva è legata proprio alla una fuga in avanti rispetto a queste modalità nuove che sicuramente possono danneggiare le nostre produzioni tradizionali fatti devo dire con degli altissimi livelli di eccellenza produttiva di macellazione e con tutti gli elementi che le connotano e quindi insomma la salvaguardia ancora senza sé senza ma della nostra produzione agroalimentare ovvio che la scienza va avanti e niente impedisce che ci possono essere una ricerca rispetto al cibo sintetico ricerca che però non deve nella maniera più assoluta penalizzare la ricerca necessaria utile e sempre molto importante riguardo le produzioni tradizionali perché siamo convinti che si possa sempre far meglio e sempre anche nel rispetto di tutti gli elementi che compongono le filieri di produzioni tradizionali grazie apriamo la discussione ci sono richieste di intervento si sente sì credo che sarà il primo e unico voto in dieci anni che farò informemente dalla maggioranza perché credo che il tema della carne coltivata o comunque del nobel food si è da inquadrare in un'altra maniera lo faccio anche informemente da quello che fa il mio partito che ha fatto il mio partito a livello regionale e nazionale in questi mesi ecco però dopo aver passato un mese di congressi a dire che l'unanimismo non è per forza una virtù mi sembrava anche giusto seguire visto che non è un tema amministrativo seguire un po' quello che che sento su questo tema ecco credo che vada inquadrato più a livello locale a livello globale perché insomma entro fine secolo saremo forse 12 miliardi saremo già 10 miliardi nel 2050 quindi tra 30 anni è un orizzonte molto vicino già oggi su 8 miliardi di persone 850 milioni soffrono una fame il 10% della popolazione mondiale e c'è una crisi climatica incredibile che genera un circolo vizioso perché l'aumento delle temperature porta a desertificazione in alzamento dei mari quindi a restringere i terreni dove si può coltivare e sappiamo bene come un certo tipo di agricoltura intensiva e di allevamento intensiva aumentano addirittura su uno effetto ulteriore di desertificazione quindi aumenta la popolazione negli ultimi 20 anni aumentato il consumo di carne del 58% la FAO stessa stima da qua al 2050 quindi quando arriveremo ad essere 10 miliardi un 73% in più di aumento di riproduzione della carne ecco questo rischia di portarci poi a un collasso dobbiamo vedere un po' qual è la situazione perché le migrazioni economiche saranno sempre di più le rivolte eccetera eccetera il problema dell'acqua e così via e in questo l'allevamento l'industria della carne nel complesso genera il 14,5-18% se si considerano anche i trasporti della produzione dei gas serra globali quindi è ovvio che è uno dei punti su cui intervenire perché un certo tipo di agricoltura e di allevamento non sono più sostenibili con questi ritmi e come dicevo il tema del cambiamento climatico che è sfuggente sfuggevole soprattutto non riusciamo a percepirlo nella sua interezza e ci indigniamo di più per chi butta della vernice che dopo dieci minuti viene via rispetto a quello che facciamo al nostro pianeta credo che insomma renderci veramente consapevoli verso cosa stiamo andando incontro sia difficile e sfugge a tutti ecco in questo ecco per invertire questa rotta per impedire che si arrivi a a superare quel limite di due gradi centigradi in più media annui oltre i quali sarebbe la soglia irreversibile del nostro pianeta ecco questo lo dicono tutti i climatologi l'agricoltura il modo con cui ci alimentiamo è uno dei diciamo dei punti su cui intervenire ci sono due due sistemi uno è quello della filiera corta sicuramente quindi di andare e quindi della stagionalità del fare far meno al cibo trasporto e percorrenze chilometriche e anche quindi un tipo di agricoltura più tradizionale più vicina ma sappiamo che per sfamare questo mondo è difficile poi è vero che ci sono sprechi eccetera ma questi derivano da un'impostazione iper liberista del nostro sistema economico e dall'altro c'è quello del novel food dove ovviamente anche qua ci sono interessi economici preponderanti come ovvio che sia ma poi deve essere la politica a governarli ecco novel food che non è solo carne coltivata ma è anche insetti di novel food sono tutte le cose che magari sono già anche in use in altre culture ma arrivano diciamo in altre in altre tavole e sono nuovi modi di produzione più sostenibili quindi cercare di generare più cibo in spazi più contenuti quindi insetti ci sono tutta una ricerca su proteine partendo dalla CO2 stessa quindi anche da produzione addirittura di scarichi petroliferi eccetera per produrre proteine c'è tutta la parte di agricoltura cellulare e poi c'è la cosiddetta carne coltivata ecco che non è sintetica perché non c'è un processo sintetico dietro ma sono tecniche molto simili a quelle della medicina rigenerativa quella ecco da qui poi da una cellula da un prelievo di una cellula c'è un processo di crescita è una tecnica su cui c'è stata ovviamente una forte investimento negli ultimi cinque anni e ovviamente vedere 6.000% in cinque anni sembra un gran numero ma quando si parte da zero queste percentuali schizzano ecco e oggi è sulle tavole di alcuni mercati in maniera limitata a Singapore che comunque ricordiamo è uno degli stati più avanzati del pianeta anche se è una nicchia e in alcune parti negli Stati Uniti è iniziato a sperimentare e a metterla in produzione ecco in Europa sappiamo che la carne coltivata è al vaglio dell'EFSA che è l'istituzione indipendente europea che si esprimerà anche sui rischi sulla salute eccetera è ovvio che oggi siamo in una fase sperimentale che ha ancora tanti punti di domanda uno è sicuramente quello dei costi perché finché non c'è un salto di scala nel modello produttivo come in tutti i modelli produttivi la prima fase dei costi ingenti anche se c'è già stato un abbattimento importante rispetto alle prime sperimentazioni l'altro punto di domanda grosso ed è quello che mi interroga di più forse quello del consumo energetico quindi quanta energia va consumata per fare questo nuovo tipo di carne quanta acqua si dovrà consumare è più o meno sostenibile dei livelli tradizionali su questo anche qua la ricerca sta andando avanti e fermarla forse non è neanche non è neanche giusto dipende anche tanto dal livello di efficienza energetica poi degli impianti in cui verrà fatta leggendo un po' di articoli insomma mi sono documentato perché poi sono temi che il tema dell'alimentazione del cibo mi ha sempre interessato molto anche già dall'università e l'obiettivo è quello di arrivare un po' a una sorta di autoproduzione domestica di questa carne con dei sistemi come quelli simili a il pane fatto in casa o il yogurt fatto in casa questa è la missione che c'è dietro alcune start up che sono partite ecco io capisco le preoccupazioni di un certo mondo assolutamente sono legittime ognuno fa la propria attività di portatori di interesse in questo il mondo agricolo è sempre stato molto bravo a farle altrimenti non avremmo avuto la PAC che è il fondamento dell'Unione Europea e tante altre cose però ecco credo che mettere insieme i modelli di produzione tradizionali che hanno già una loro certificazione e hanno già una loro tutela con il novel food e la carne coltivata in particolare sia un errore perché sono due sistemi che invece dovranno essere complementari il vero competitor di questi nuovi sistemi di produzione saranno i grandi allevamenti intensivi quelli che vediamo in Brasile di foresta amazzonica e a cui Bolsonaro ha dato il via negli anni scorsi o quelli che vediamo in Cina dove ci sono addirittura gli appartamenti per maiali ci sono grattacedi con maiali che hanno deforestato per fare ecco questo oppure l'Africa anch'essa nelle parti più più fertili abbattute per coltivare in maniera intensiva è una domanda che è sempre più ingente quindi sono due facce della stessa medaglia secondo me per combattere proprio il rischio climatico che stiamo vivendo e un processo verso il quale ci stiamo opponendo ancora troppo poco quindi se queste nuove tipologie di alimentazione possono aiutarci in futuro a sovvertire a togliere terreno a un'agricoltura dannosa perché esiste anche quella un allevamento dannoso per ridarlo a un'agricoltura migliore più sostenibile più vicina o a ridarlo alla forestazione credo che sia una cosa una cosa positiva e quindi fermare una ricerca un processo di ricerca che invece è opportuno credo sia credo che sia errato ecco quindi non dobbiamo avere secondo me un atteggiamento difensivo in questo ma un atteggiamento proattivo credo che in questa in questa fase nei prossimi anni le nostre produzioni che assolutamente sosteniamo troveranno ulteriore spazio perché propongono un modello alternativo a quello della zootecnia tradizionale in senso come dire industriale la nostra è un altro tipo di zootecnia però dobbiamo vedere un po' tutto l'approccio a livello generale e globale ecco e quindi forse guardare solo al nostro orto ma non a una scala più ampia è limitante ecco perché poi volevo concludere con un aneddoto forse nessuno lo sa ma è una mia passione da sempre la figura di Federico II di Prussia despota illuminato ma lo dico perché se siete andati sulla sua tomba a San Sushi vedrete delle patate sulla sua tomba sempre perché nel 1756 durante la guerra dei sette anni che portò a carestia in Prussia obbligò fece un decreto per obbligare tutti contro anche gli Juncker che erano i grandi possidenti terrieri prussiani a coltivare patate le patate che fino ad allora le hanno ritenute cibo per maiali o addirittura velenose e salvò il suo opolo dalla carestia per questo nonostante avessi inizialmente delle avversioni e qui non vorrei arrivare a un nuovo disputismo illuminato e farci obbligare a delle scelte però siamo davanti anche perché oggi abbiamo gli strumenti per ragionare su quello che sta venendo avanti e quindi per questo io dico faccio fatica a votare a favore di questo documento è ovvio che siamo tutti a favore del sostegno delle produzioni agricole e zootecniche e questo non posso dire di no ma in un titolo in cui si è contro la carne sintetica su questo voterei contro ecco il mix mi porta verso una stensione proprio perché non possiamo fermare la ricerca e avere un atteggiamento un conservatore pregiudizievole in questa fase mi sembra affrettato soprattutto quando ancora si devono esprimere gli enti competenti quindi non sappiamo ancora nulla sui rischi della salute è ovvio che se l'EFSA dicesse questa carne porta a dei rischi sulla salute il tema non si pone neanche perché si ferma lì però il tema di come alimentare un mondo che cresce a questo ritmo e con la domanda di proteine di carne questo rimane e quindi dei modelli alternativi di alimentazione e di produzione questi dobbiamo comunque porceli come traguardo ecco dopodiché il consumatore sarà libero di scegliere ovviamente come deve essere sempre informato di quello che mangia come lo è adesso e poi sarà libero di scegliere e sapere da che filiere viene quello che mangia questo è basilare però non limita la libertà di scelta nessuno credo voglia imporre dall'oggi al domani come fu fatto in Prussia dovete mangiare solo patate qua nessuno dice dovete mangiare solo carne coltivata e non più fare quello che si faceva prima c'è un modo tradizionale che deve andare avanti di sostenibilità di agricoltura di prossimità e un modo invece innovativo che la scienza non possiamo fermarla ecco quindi credo che poi l'approccio scientifico vada avanti anche per tentativi e su questo insomma credo che non ci si possa fermare davanti a queste sfide che sono più grandi di noi grazie grazie ci sono altri interventi si è prenotato il consigliere no no prego ok via frate poi dopo io i miei anni quello che diceva dall'asta mi fa paura ha fatto una un insieme finendo con le patate catastrofiche credo che ci sono anche tanti altri sistemi tipo moderare il consumo e lo spreco basta vedere dare un'occhiata nei bidoncini c'è tanti scarti tanta roba buttata via e tutto il resto e comunque la carestia illuminati e tutto il resto mi preoccupa in tanti sensi anche perché io vengo dalla dalla metà dell'Italia e quando sono arrivato a Guastalla nel 50 nel 70 il primo passo sono state tortelli cappelletti lo stracotto d'asina io spero che questo vada avanti e se qualcuno ha voglia di mangiare insetti e tutto il resto sono d'accordo ognuno è libero di di fare quello che vuole però è preoccupante una situazione del genere credo che se troviamo un qualcosa a far capire ai giovani e i vecchi come mangiare quando mangiate non abusare o non buttare via e allora forse qualcosa prima dei 10 miliardi di abitanti credo che ci stiamo ancora dentro e possiamo anche mangiare dei cibi buoni io sono favorevole grazie consigliere Morge ma rispetto alla mozione presentata dal sindaco mi interessava spiegare alcune questioni le mozioni che è stata presentata vengono presentate in tutta Italia e questo dimostra l'attenzione di questo di questo argomento che sia carne sintetica che sia carne di un'altra denominazione nasce da un qualcosa che è diverso da quello che noi tutti conosciamo Emilia Romagna come regione è la regione che ha più prodotti dopo denominazione di origine protetta e IGT e questo è un vanto per noi per la nostra regione anche per la pancia questo è vero giusto e questo credo da parte della regione Emilia Romagna ma anche da parte dell'Italia c'è sempre stata una difesa di quelli che sono i prodotti agricoli tipici e unici al mondo abbiamo della gente e se ne parla sempre di più per televisione sugli orari di stampa il cosiddetto turismo enogastronomico cioè c'è della gente che gira viene in Italia da tutte le parti del mondo a cercare un prodotto particolare che si trova solo in una zona d'Italia e questo credo che sia una caratteristica nostra noi in Italia siamo famosi nel mondo per la qualità la giunità e la bontà dei nostri prodotti ci sono dei prodotti che anche a pochi chilometri di distanza l'uno dell'altro cambiano gli aromi i profumi il prosciutto di Parma il curatello di Zibbello eccetera eccetera poi mi fermo perché rischio di dimittrare qualche d'uno abbiamo dei prodotti che sono tipici per il sapore il colore e i profumi noi italiani siamo famosi nel mondo ed è sempre stata una nostra teoria e cultura perché la cultura del mangiare effettivamente l'Italia è quella noi siamo sempre state per l'alimentazione dell'uomo per alimentare le persone non per nutrirle nutrirle è la filosofia delle multinazionali soprattutto in America ma non solo dove vogliono standardizzare un prodotto porto l'esempio e tutti lo conosciamo del bel paese che era il famoso che è il prodotto formaggio italiano dove c'è davanti c'è l'Italia fu preso da una multinazionale francese quale invece di produrlo in Italia cominciò a produrlo in Francia poi a un certo punto era andato nei paesi dell'est e poi volevano portarlo in Australia perché dicevano che la costava meno produrlo questo non capita ai nostri prodotti perché qualsiasi tipo di prodotto e voi lo sapete siete più donne che uomini gente quindi che cucinate magari un po' più del sottoscritto e di altri che conoscete la differenza di quelli che sono i piatti e i prodotti che noi facciamo la filosofia americana adesso si stanno riconvertendo a quello che è la filosofia italiana cercano i prodotti più particolari i prodotti più tipici se una punta di parmigiano reggiano di due atti e mezzo lo vendono in America a 60 dollari al chilo questo questo nel tipico esempio noi siamo sempre stati per l'alimentazione sana e naturale noi con questa mozione lo dico cosciente di quello che sto dicendo noi non vogliamo fermare la carne sintetica perché non abbiamo sicuramente nella forza di niente sono investimenti da parte di società di multinazionali a livelli mondiali che per produrre una bistecca e credo come l'ho visto io l'avete visto anche voi nella trasmissione sulla sette di questa società che ha impiantato questo laboratorio in Israele costa una follia noi siamo per un altro tipo di di filosofia noi non vogliamo fermare niente noi vogliamo solo e credo che questo sia il nostro compito dobbiamo sollecitare sensibilizzare le autorità competenti sull'argomento per difendere quelli che sono i nostri prodotti e questa è una mia idea personale io sono per la filosofia non per dare da mangiare alle persone che hanno fame sì gli dobbiamo dare da mangiare per l'immediato ma dobbiamo soprattutto insegnarli a coltivare i prodotti porto un piccolo esempio io ho avuto la fortuna di fare un mese in Madagascar per una missione umanitaria per un'associazione di reggio col fatto che lavoravo nel mondo agricolo il don che c'era lì in Madagascar mi aveva portato a vedere questa azienda agricola che loro avevano e loro coltivavano il riso io il giorno prima mi aveva portato da queste suore benedettine che erano sempre lì vicino all'azienda agricola che riuscivano a fare due coltivazioni di riso in un anno io ho visto queste suore e gli ho fatti i complimenti perché con loro piano piano si davano a fare facendo coltivazioni vado a vedere l'azienda agricola ad Ambustra all'interno del del Madagascar e il cosiddetto gestore non neanche si può dire fattore mi fa vedere le coltivazioni del riso e vedo questo campo fermo allora gli ho chiesto io ma scusa io le ho visto le suore benedettine le suore fanno due raccolti in un anno perché voi ne fate solo uno ma mi cioè questo è quello che secondo me dobbiamo andare a fare sicuramente dargli da mangiare ma insegnarli a coltivare a coltivare meglio a coltivare loro perché questo può essere il loro modo intanto di alimentarsi tutti i giorni che non è poco e poi anche di capire che possono stare dove loro vivono dove sono nati dove sono nati i loro genitori dove sono nati i loro figli continuare a stare lì invece di emigrare a tratti da da quello che vedono su questa cosa qua pensando che dall'altra dalla parte dell'altra parte del mare c'è c'è il paese di Bengodi grazie grazie sono altri interventi consigliere Bacchiavini ho molto ho letto il documento e mi trovo favorevole sostegno per sostegno intendo proprio un discorso di promozione rispetto al discorso di essere in contrapposizione a metodi alternativi di alimentazione in questa fase soprattutto ho cercato di documentarvi ma ancora da parte della comunità scientifica si sa ancora molto poco quindi personalmente non sono in grado di dare un giudizio positivo a questa cosa nel senso che non ho le conoscenze tale da poter dire se questi nuovi stili di alimentazione chiamiamolo così può essere giusto o meno soprattutto per la salute quindi in questa fase io sarei per rastenermi il mio voto in estensione grazie falte interventi consigliere cavazzoni sì grazie presidente allora io intervengo solo brevemente per dire che mi allineo molto rispetto alle posizioni che sono state espresse in precedenza soprattutto dall'asta e anch'io mi astengo rispetto al voto di questa mozione e quello che mi sento di condividere in questa sede è un po' una sorta di rammarico nel senso che alcuni temi così grandi rispetto a Guastalla a noi ma anche così importanti sia nella nostra quotidianità sia nel nostro futuro come quello ad esempio del cambiamento climatico e del futuro dell'alimentazione dell'agricoltura degli allevamenti avrei voluto che venissero affrontati in maniera forse un po' più propositiva ecco guardando al futuro non con paura con diffidenza ma con curiosità cioè riconoscere che ad esempio noi ma in primis sicuramente ma anche la comunità scientifica non ha ancora tutti gli strumenti gli studi necessari per esprimere un giudizio positivo negativo nei confronti di questo tema ecco quindi avrei preferito forse più curiosità propositiva anche perché soprattutto non comprendo non condivido un'impostazione che vede la contrapposizione cioè bene e male le nostre eccellenze versus la carne sintetica ecco secondo me il tema è molto complesso forse anche difficile per noi da affrontare perché siamo cittadini una popolazione quella italiana molto legata al proprio territorio alle proprie eccellenze quindi forse tendiamo a vedere l'alimentazione come solo qualcosa legato ai nostri prodotti di nicchia certificati riconosciuti internazionalmente quando in realtà l'alimentazione è un tema molto vasto ecco avrei voluto appunto che il tema del cambiamento climatico fosse stato affrontato in maniera diversa in questa sede quindi io mi astengo per le ragioni dette poc'anzi grazie ci sono altri interventi se no mi permetto di dire anche io due parole sta per intervenire consigliere se no no ma voglio fare una domanda ma un uomo farebbe volentieri l'amore come una donna sintetica o una donna con un uomo sintetico questa è la risposta non lo so posso dire improvviso anch'io perché non pensavo che saremmo arrivati a un livello di approfondimento così lo dico con rammarico perché magari mi sarei preparato anch'io il punto di vista esposto dal consigliere dall'asta mi ha diciamo in primo luogo incuriosito perché effetti è un profilo per considerare la tematica in discussione oggetto del documento che la sua suggestione è poi collegato anche al problema della tutela dell'ambiente eccetera insomma induce ad interrogarsi tuttavia insomma io credo che per quanto riguarda le esigenze espresse vadano sostenute condivise innanzitutto il principio di precauzione noi dobbiamo sempre metterlo davanti questo principio rispetto a tutte le novità che effettivamente ci appaiono come dei grandi capoglimenti perché io oggi ho visto mi ha mandato un video sul telefonino mi distraggono diciamo durante il lavoro però l'ho guardato a volte come faccio con altri video e ho visto questa cioè che una persona apparecchiava una tavola con dei fermi dei begatini sono quelli che uso di solito per andare a pescare e poi delle cavallette da un'altra parte e delle altre cose che non ricordo bene ah insomma delle altre cose similari insomma ecco che non ricordo e hanno imbandito la tavola con queste cose io dico che c'è un problema anche di benessere non solo fisico ferente proprio alla salute delle persone ma anche psicologico diciamo non possiamo pensare che le persone non possono trovare soddisfazione anche nell'approccio con il cibo con le prelibatezze che la nostra zona soprattutto produce diciamo che rischiano se non sono difese con il debito come dire con la forza necessaria rischiano di trovarsi in difficoltà perché anche la politica europea non sempre ha agevolato diciamo i nostri i nostri ricoltori quindi dobbiamo a mio giudizio proprio impegnarci allora dicevo principio di precauzione prima che dovrebbe essere come dire adottato rispetto a tutte le novità tecnologiche che ci vengono proposte insomma a volte propinate insomma e poi anche la valorizzazione dei nostri prodotti perché legati ai nostri prodotti c'è il lavoro di tante persone quindi la ricchezza delle famiglie dei nostri territori insomma ecco quindi quello che dice il documento tutto sommato mi pare molto condivisibile con ciò però non voglio minimizzare o trascurare anche i punti di vista che sono stati esposti prima che meritano indubbiamente un approfondimento però prima di arrivare a propinare i vermi i begatini le cavallette e quelle cose di pensate stasera quando andate a casa e trovare sulla tavola anziché qualche fetta di prosciutto o cotechino o qualcosa diciamo un piatto di cavallette insomma penso che andreste a letto diciamo non molto soddisfatti questa sera poi sperando di poterle anche digerire bene quindi voglio dire prima di arrivare lì pensiamo come diceva il consigliere Mugia che condivido nel suo intervento di favorire lo sviluppo dell'agricoltura certamente in modo che non venga depredato il territorio ecco quello che viene diciamo nel Brasile è veramente preoccupante adesso non so se questo lo fanno per sviluppare gli allevamenti oppure anche per estrarre insomma delle materie prime giacimenti eccetera insomma ecco comunque è chiaro che bisogna anche evitare che vengano eliminate diciamo le piante insomma ecco che venga fatta appunto si arriva a una desertificazione come diceva il consigliere dell'Ast appunto dei territori però secondo me se noi a dei continenti come l'Africa diciamo dove è tutto territorio insomma ecco io penso che lì si potranno sviluppare diciamo anche delle culture purtroppo sono nazioni depredate a cominciare dal Congo mi sono interessato ultimamente di questo Stato diciamo che è depredato dagli Stati più grandi comunisti e non comunisti capitalisti eccetera insomma ecco che ha delle risorse immense non soltanto dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista dei giacimenti possibili dobbiamo cercare di sviluppare la pratica di una sana agricoltura e quindi offrire a tutti gli abitanti del mondo anche se capisco che l'incremento della popolazione costituisce un bel problema però le opportunità che abbiamo noi non dico che possano mangiare i capelletti e le prelibatezze nostre però offrire del cibo buono diciamo a tutte possibilmente le popolazioni di questo mondo ma per arrivare lì dovremmo affrontare grandissimi problemi diciamo resistenze grosse resistenze diciamo che ci sono in tutto il mondo altro discorso è la Cina perché lì effettivamente c'è una sproporzione tra gli abitanti e il territorio ma però in tanti altri territori di questo mondo dove esiste la povertà però terreni da sfruttare dal punto di vista agricolo insomma ci sono grazie assessore Paesi allora io sono un assessore quindi non voto non voterò la mozione così però volevo dare anche il mio contributo a questa discussione che mi sembra sinceramente molto interessante anche per tutti gli aspetti che va a toccare rispetto ad una mozione che secondo me non voleva alzare tutta questa discussione anche se è una discussione che c'è ed è interessante al giorno d'oggi quindi mi attengo molto a quella che è stata la presentazione della mozione io penso che questa mozione segua una traccia che come Paese adesso in questo caso dico come Italia portiamo avanti da non so quanti anni perché ho assistito molte volte in molti contesti a delle discussioni rispetto anche ai nostri tipi di prodotto che mettiamo sul mercato e che sono e che vengono e sono in qualche modo avversati in certi casi dall'Unione Europea prendiamo l'esempio dei vini o anche di altri prodotti che hanno comunque visto da parte dell'Unione Europea delle posizioni diverse che poi però come Paese come Italia naturalmente con il supporto di altri Paesi che hanno delle produzioni di un certo tipo siamo riusciti a respingere allora io credo che questa mozione vada in maggior parte a chiedere la salvaguardia dei prodotti che noi abbiamo oggi e che produciamo in un modo sicuramente molto preciso in un modo molto controllato e che mettiamo sul mercato e quindi questo dobbiamo continuarlo a richiedere tutte le volte che possiamo al nostro Paese anche nei confronti appunto di quelli che sono gli stessi partner dell'Europa ma anche Paesi esteri che comunque tendono molto a come dire a scopiazzare quello che noi mettiamo sul mercato l'altra questione è il fattore del cibo non sintetico come è che è stato chiamato adesso mi sfugge comunque sintetico allora sono due cose che a parere mio e secondo me se si legge bene la la mozione è sottointeso anche nella mozione possono convivere sul mercato l'importante è che ci siano la sicurezza sotto il punto di vista sanitario e della riconoscibilità dei prodotti poi uno si sceglie quello che meglio crede però quello che deve essere chiesto secondo il mio parere in modo parentorio e ripeto secondo me quella mozione lo porta è per questo che se dovessi votare ne voto a favore ma non posso votare però volevo perorare la causa la questione appunto della riconoscibilità di quello che noi abbiamo nel nostro piatto di quello che noi andiamo a comprare nei vari luoghi dove vendo gli alimentari quindi io sarei per per chiedere comunque di sostenere questa questa mozione grazie se non ci sono altri interventi mi permetto di dire due parole anch'io sarò breve consiglio di affrate grazie credo che la mozione no scusa non siamo contrari alle persone che vogliono del cavalletto non cavalletto immagino quello che vogliono qui stiamo guardando a meno sulla base della mozione è il prodotto locale e tutti i resti che poi ci sia per il futuro una catastrofe e tutti i resti che la gente muore o aumenta vediamo com'è comunque nessuno nega agli altri di mangiare cavallette e tutti i resti grazie consigliere stavo scherzando nel senso intervengo non chiedo più se qualcun altro vuole intervenire basta il motivo per il quale ci troviamo adesso a trattare questa mozione è un po' sollecitati da varie campagne di comunicazione che hanno fatto varie associazioni insomma del settore agricolo e zootecnico in quest'ultimo periodo credo che l'avremo visto tutti insomma anche la petizione che sta facendo col diretti contro il cibo sintetico e sono state varie associazioni che hanno chiesto ai comuni di approvare questi documenti quindi il motivo per il quale ci troviamo qua non è tanto di valorizzare il nostro prodotto locale che sicuro siccome nessuno di noi ha il dubbio sulle necessità di valorizzarlo il più possibile o di proteggerlo ma ci troviamo qua perché appunto queste associazioni stanno diffondendo delle campagne contro il cibo sintetico in una maniera secondo me molto pregiudizievole dallo stesso linguaggio perché come diceva anche il sindaco è errato a parlare di cibo sintetico poi ormai ne stiamo parlando tutti in opinione pubblica quindi ci riferiremo da ora in poi sempre a questo tipo di carne come cibo sintetico ma di per sé anche la scelta del linguaggio per me è fondamentale per come si vuole comunicare e questa scelta del linguaggio è di per sé pregiudizievole perché in realtà di sintetico non c'è nulla perché non è frutto di sintesi ma è carne coltivata in vitro tra l'altro siamo gli unici in Italia ad affrontare questo tema utilizzando il termine sintetico in tutto il resto del mondo utilizzano altre tipologie di linguaggio ma perché non è proprio cibo sintetico un'altra cosa e questo ma poi la campagna di col diretti adesso parla anche di cellule impazzite di bioreattori come se fossero il male è per dire che c'è anche una sorta di pregiudizio su cui ci sta spingendo a portare anche nei comuni nel consiglio comunale a votare su questa mozione ed è un pregiudizio perché in questo momento non c'è stata ancora nessuna richiesta all'EFSA di introduzione di queste tipologie di novel food quindi è ancora molto presto per affrontare questo tema e avere un'opinione secondo me chiara e precisa a questo tema a prescindere che ognuno di noi personalmente voglia mangiare o meno queste tipologie di prodotti capisco anche i consiglieri quando dicono io non mangerai mai delle cavellette che mi trovo sul piatto in tavola a casa ma anch'io se sento parlare di cibo di carne in vitro non ridisco non è una roba che mi attrae ma questo non c'entra con il nostro giudizio politico nel senso questa è un'opportunità quella del cibo sintetico ormai lo chiamerò così anch'io ai fine un'opportunità anche appunto di dare più scelte al consumatore per tipologie di scelte dal punto di vista etico ambientale oppure anche per le motivazioni che diceva il consigliere dell'asta prima differenti quindi in realtà stiamo ampliando la possibilità di scelta del consumatore e questa tipologia di carne quella coltivata in vitro cioè non andrà mai a sostituire la nostra bistecca che ci mangiamo a casa magari andrà a sostituire carne di scarsa qualità che viene data nel fast food che magari in Italia viene già importata dall'estero ed è già di scarsa qualità quindi visto che il tema è ancora così aperto in realtà è molto presto per schierarsi contro o dico anche a favore di questa tipologia è un po' schierarsi contro il progresso perché ovviamente ci sono dei rischi il compito della politica è anche valutare i rischi ma non è perché se c'è un rischio che non dobbiamo seguire una strada il progresso è fatto di errori di assunzione di rischi di sbagli e non è il nostro compito cioè fortunatamente l'Europa si è unita di uno strumento come l'EFSA che è un organo indipendente scientifico che nel caso verrà chiamato a farlo e non è ancora stato fatto valuterà dal punto di vista sanitario se è sano o meno questo tipo di prodotto qual è il rischio di assunzione perché sui nostri tavoli adesso cioè senza parlare delle etichette sull'alcol ma di prodotti che se ne facciamo abuso c'è un rischio molto alto ne abbiamo notevoli nel senso quindi ogni cosa ha un rischio c'è da cal valutare qual è il rischio di questi prodotti abbiamo anche la fortuna di essere da 30 km dall'EFSA che pensiamo sempre all'Europa lontanissima ma è qua a Parma la sede quindi nel senso se mai l'EFSA si troverà ad affrontare questo tema potremmo anche andare a seguire direttamente di persone i lavori dentro l'EFSA a cui si possono iscrivere stakeholder a cui possono assistere i normali cittadini e seguire effettivamente qual è il processo insomma di valutazione di questi prodotti quindi per questi motivi anch'io mi asterrò perché nel senso se il titolo fosse quello della mozione insomma quello del contro voterei contro anch'io ma per i motivi che ci siamo detti anche per il dispositivo della mozione assolutamente insomma sarà anche in linea d'accordo se lo prendessimo estrapolato dal contesto quindi insomma mi asterrò però non credo che dobbiamo prendere una posizione a prioristica e così pregiudizievole come è in questo momento ci sono altri interventi di creazione di voto se no metto in votazione la mozione a sostegno delle produzioni agricole e zootecniche del territorio della regione Emilia Romagna di tutto il territorio comunale e contro la carne sintetica presentata da sindaco Camilla Verona astenuti 4 astenuti contrari favorevoli il resto dei presenti pertanto è approvata passiamo al punto 5 rettifica errore materiale del libere consiglio comunale numeri 35 36 37 assunta nella seduta del 29 novembre 2022 ed erroneamente datate 22 novembre 2022 direi che il titolo del punto è autoesplicativo nel senso è stato proprio fatto un errore materiale sulla data del consiglio perché era già stata preparata la bozza di delibera poi è stata spostata la data del consiglio e nella bozza di delibera è rimasta la data precedente io non so se ci sono dubbi non so se il segretario vuole dire qualcosa però mi sembra molto molto pacifico come punto nel senso se non ci sono interventi lo metto in votazione direttamente astenuti contrari favorevoli l'unanimità dobbiamo anche votare per l'immediata eseguibilità astenuti contrari favorevoli l'unanimità portanto approvato immediatamente eseguibile passiamo all'ultimo punto riqualificazione complesso aziendale di SMEG SPA posto in Guastalla fra le vie di circonvalazione via Le Capuccini e via Domenzoni istanza via Maldotti Maldotti istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380-01 dell'articolo 20 della legge regionale 15-2013 valutazione in ordine a sostitzenza del pubblico interesse e assenso alla deroga questo punto è stato presentato non mi ricordo in realtà la data ma in commissione quando? ok in la commissione territorio ambiente benessere sociale dove è stato illustrato e dove i consiglieri hanno potuto approfondire il punto insomma non so se vuole intervenire l'assessore Lanzoni o meno ma non volevo spingere no dico due parole di presentazione del punto insomma abbastanza rapida anche perché effettivamente è stato discusso in commissione dove c'è stato modo di approfondire e rispondere ad alcuni quesiti oggetto dell'intervento è il complesso immobiliare storico di SMEG tutto il complesso immobiliare storico di SMEG dove originariamente erano collocate sia la produzione che la direzione e anche la parte diciamo progettuale dell'azienda in una porzione di centro storico insomma ai margini del centro storico effettivamente interessante e che può generare molte opportunità dal punto di vista proprio del disegno della città e della rigenerazione di quello che è il tessuto urbano il complesso da piano urbanistico vigente è individuato o meglio l'area su cui esiste il complesso è individuato come ambito specializzato per le attività produttive di rilievo comunale e nello specifico è un ambito a prevalenza di attività commerciali l'intervento che diciamo ci viene proposto che ci è stato proposto prevede l'inserimento di una nuova attività commerciale alimentare in sostituzione dell'uso in atto dell'immobile in una sua porzione specifico questo perché di fatto siccome si sta parlando di una deroga allo strumento urbanistico nello specifico di un permesso di costruire in deroga è anche utile andare a perimetrare la cornice di che cos'è questa deroga perché di fatto l'ambito da piano urbanistico è un ambito per attività commerciali però questo intervento di mutamento di destinazione d'uso non sarebbe ammesso in via ordinaria dal nostro regolamento urbanistico vigente perché consente insediamento d'uso commerciale non alimentare quindi la deroga si sostanzia nel consentire l'inserimento di superficie di volumi per attività commerciali alimentari poi il progetto un altro dato che è utile sottolineare è come la proposta si sostanzia di due stralci di intervento un primo stralcio che riguarda la demolizione della porzione ad ovest quella diciamo dei magazzini per insediare una nuova media struttura di vendita commerciale e un secondo stralcio invece che riguarderà la riqualificazione e il rinnovo delle superfici che oggi ospitano Tesec per comunque mantenere quell'uso e la ristrutturazione e la riqualificazione della vecchia sede degli uffici cioè quella porzione di palazzina di volume edificato che dà suo via Maldotti come abbiamo potuto approfondire in commissione ma come anche vedete nel documento nel punto di consiglio sono diversi gli aspetti migliorativi e di qualificazione che un permesso di costruire in deroga porterebbe nella zona non ultimo anche quello che non è non è stato messo nero su bianco ma che di fatto poi esiste che è quello di consentire un aumento di posti di lavoro quindi una valorizzazione anche del lavoro locale tramite la creazione di nuovi posti di lavoro in luogo di un'attività dismessa da non so quanti anni comunque sicuramente da decenni e di fatto il permesso di costruire in deroga è un procedimento che coinvolge direttamente il consiglio comunale perché il consiglio comunale attesta la sussistenza dell'interesse del portare avanti questo tipo di progetto questo tipo di proposta in deroga appunto allo strumento urbanistico ovviamente dal punto di vista normativo è tutto perimetrato all'interno della legge urbanistica regionale e questo è noi lo portiamo in consiglio sostenendo la bontà e l'opportunità della proposta migliorativa in un contesto che come ho detto poc'anzi da molti decenni vede una situazione non di degrado ma sicuramente di abbandono quindi si tratterebbe di consentire una rigenerazione urbana nuovi usi compatibili con la zona in cui siamo e oltre a la rigenerazione dell'immobile all'inserimento sono entro nello specifico però anche la realizzazione di un parcheggio privato d'uso pubblico in una zona che effettivamente ha necessità di nuovi posti auto l'inserimento di superfici permeabili al posto di quello che abbiamo oggi l'inserimento di nuova vegetazione l'inserimento come opera extra comparto di nuovi percorsi ciclopedonali che vanno ad arricchire e in un certo qual modo anche a completare la rete di percorsi per la mobilità lenta e anche una sistemazione di carattere più generale di quello che è il manto stradale la banchina stradale nelle aree in prossimità insomma questo in estrema sintesi grazie consigliere Benaglia non ho capito bene diventerà anche una zona commerciale alimentare allora ecco perché sembrava all'inizio che non poi sono d'accordo però anche se però vedo che purtroppo con questo grosso centro verrà via Gonzaga verrà ad essere ancora di più perché sì perché ovviamente più facciamo centri più via Gonzaga si depaupera però speriamo di no cioè io sono d'accordo con questo centro sulla faccenda delle piste ciclabili quella che passa davanti a casa mia spero di non investire nessuno quando esco è il cancello è che lì no ma se non mi ci vuole uno specchio per vedere se qualcuno arriva o no va bene grazie ci sono altre richieste di intervento vuol dire che se ne voto consigliere Cavazzoni solo perché per problemi personali non sono riuscita a mandare il verbale in tempo questa seduta e appunto come anticipato il 7 febbraio si è tenuta la seduta della TAPSE la quale abbiamo affrontato il punto dell'ordine del giorno direi che ci siamo soffermati principalmente sulle due fasi del progetto e poi appunto sull'oggetto della delibera consigliare che è quella della valutazione della sussistenza del pubblico interesse quindi domani provvederò a inoltrarvelo anche se in ritardo diciamo perché comunque è interessante approfondire questo aspetto cioè di come vi sia possiamo siamo chiamati a valutare la sussistenza di un pubblico interesse nel momento in cui c'è una riqualificazione ma anche la valorizzazione positiva del territorio in termini occupazionali ecco e basta grazie per quanto riguarda la pista ciclabile il costo quindi verrà sostituito e sostenuto da chi realizza l'interno io non lo so ma una sinergia adesso collegandomi a quello che diceva appunto il consigliere Benaglia tra il movimento che si creerà diciamo attorno quella zona lì e via Gonzaga non lo so se sia possibile perché ci vorrebbe un collegamento più comodo e diretto però in sostanza cioè da lì per ricarsi via Gonzaga bisogna poi passare vicino a Gommista eccetera diciamo ecco quindi cioè prima quando dicevo una sistemazione anche della banchina adesso non sono stata precisa specifica ma quando ho detto una sistemazione della banchina nei dintorni intendevo proprio quello tra l'altro un tema che è anche emerso durante la commissione quindi ovviamente faremo attenzione a quelli che sono i passaggi pedonali e i collegamenti della e collegamenti pedonali e collegamenti della pista ciclopedonale non solo nella parte di nuova realizzazione ma anche di collegamento con l'area pedonale esistente poi all'interno della convenzione che però non è diciamo tema di consiglio all'interno della convenzione del permesso di costruire verranno dettagliati quelli appunto gli accordi tra chi fa cosa e quanto grazie anche se intervenire consigliere dall'asta ci siamo in teco perché siamo qua chiamati a deliberare sull'interesse pubblico insomma penso proprio che ci sia per quello che ha descritto prima bene l'assessore Lanzoni insomma si viene a risolvere un po' un nodo urbano che rimaneva un attimo lì risolto proprio per la preesistenza industriale precedente che ancora c'è ecco insomma diciamo che l'opera pubblica principale che sarà la ciclabile permetterà anche questa ricucitura tra via Gonzaga e questo settore e si va a unire anche alle opere che abbiamo fatto in questi anni sulla ciclopedonalità ecco no quindi verso poi via Le Cappuccini e verso via Sickel verso via Le Castagnoli eccetera quindi insomma c'è l'idea di ricomposizione di un percorso e sicuramente anche il parcheggio avere un nuovo spazio commerciale comunque alimentare quindi diciamo si va a complementare con via Gonzaga che non ha quella natura insomma crediamo che c'è anche una cosa che possa servire a chi abita in centro e a dare anche un po' di far ripartire anche il centro stesso per chi ci abita ecco quindi insomma pensiamo che proprio gli elementi di interesse pubblico ci siano tutti e poi ci sarà anche la tranche 2 che invece insomma esula poi è dentro la delibera ma poi sarà poi successiva ecco quindi noi siamo qua soprattutto a valutare la prima tranche ecco quindi il nostro voto è assolutamente positivo e favorevole grazie chiesto di intervenire il sindaco sì senza volerli badire quello che è stato detto in precedenza però preme rinforzare ancora la motivazione che ci ha portato qui e che ha appunto ritenuto da parte della giunta ecco di sostenere questo intervento proprio perché siamo convinti che invece potrà dare l'infa nuova al nostro centro storico non porterà via strada Gonzaga porterà gente verso il centro teniamo presente che insomma il discorso dell'alimentare è stato rimarcato più oltre e quindi si tratta di un supermercato di medie dimensioni alimentari strada Gonzaga c'è solo un negozio di alimentari quindi non porta assolutissima mia niente a strada Gonzaga anzi porterà gente devo dire che poi questo intervento appunto va a riqualificare un contesto che vedrà presto anche l'inizio lavori per il recupero di una maggior parte di porzione dell'area ex paralupi fiorani mi riferisco nello specifico all'area nuova più recente dietro alla via Gramsci al palazzo l'ascito insomma appunto della paralupi fiorani intervento che vedrà la presenza della sede degli ospedali dei medici di medicina generale e anche dei pediatri di libera scelta della guardia medica e di parecchi servizi del distretto sanitario in più al secondo piano la presenza dell'ospedale di comunità 18 posti letto e questo anche porterà una riqualificazione di un contesto ormai da più di dieci anni abbandonato e ben noto ben chiaro in una in una posizione tra l'altro strategica della nostra città all'inizio appunto proprio all'inizio di strada Gonzaga e questo appunto fa sicuramente da contraltare a questa a questa intervento appunto di SMEG e assieme a un intervento che ospichiamo prossimo nell'area ex Zanichelli che vedrà la presenza anche lì di una nuova attività commerciale di prodotti per l'edilizia questo fa sì che la nostra città insomma diventi nel cuore pulsante che è appunto l'imbocco di strada Gonzaga particolarmente riqualificata direi riqualificata e accogliente appunto nell'accogliere appunto le persone che vengono in Guastalla noi siamo esattamente convinti del contrario e soprattutto anche come forse diceva il capogruppo anche quella di essere attrattivi rispetto al venire abitare in centro perché anche questo tema credo che non sia di poco conto sebbene negli ultimi anni ci sia stato un recupero e anche negli anni più recenti proprio anche la questione del 110% ha stimolato ecco degli interventi di recupero edilizio nel centro storico noi crediamo proprio che al di là poi anche della riqualificazione di un contesto che aveva già le caratteristiche di attività commerciale noi in questa sede deliberiamo l'attività commerciale alimentare quindi niente impediva SMEC e questo credo che sia molto importante dirlo di svolgere in quell'attività anche affittarlo e per attività diciamo commerciali general generiche ad esempio poteva venire una ferramenta poteva venire che poteva venire una palestra poteva venire e poi tenendo tutto così in piedi l'edificio come era qui SMEC demolirà una porzione cospicua circa un terzo dell'edificio appunto in linea con la TESEC quindi la parte da TESEC verso il distributore verrà tutta demolita e ricostruita in parte circa per l'equivalente di un terzo quindi anche dal punto di vista ambientale riteniamo che poi sia importante anche questa demolizione anche per rendere anche più più bello ecco quel contesto e anche con un edificio tra l'altro che risponderà a tutti gli indici migliori indici di risparmio energetico quindi insomma questa questa situazione pensiamo che possa portare beneficio alla nostra città grazie consiglieria frate grazie mi chiedevo al sindaco per quanto riguarda noi siamo stati in commissione già da anni si parlava di una ristrutturazione una riqualificazione della vecchia SMEC quando circa nel 2000 si è spostata a San Girolamo e lasciando tutta quella struttura dove c'è poi stata la TESEC guardando la nostra situazione locale non posso non c'è la preoccupazione di un calo di occupazione presso le varie attività di commercio alimentare perché ne abbiamo tra Guastalla Baccanello Iconad la Copp l'Unieuro ce ne sono tanti quelli in circonvallazione aumentando un altro lavoro lì presso la nuova la nuova struttura di un altro alimentare io non credo che quella alimentare faccia fiorire via Gonzago perché via Gonzago oramai se non è morta è in stato di un brutto stato oggi passavo e vedevo altri negozi che vendessi 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 alloggi cioè questa miglioria non la troviamo io ho votato a favore perché è una struttura che vale da dare una visione come ne ha parlato il sindaco sia con la paralupi fiorani la parte dietro alla paralupi fiorani e l'altra macchia era la SMEG la parte esterna su via sulla circonvallazione abbiamo pensato dico perché visto che abbiamo fatto parte della commissione se non crea anche un problema di occupazione mettendo un altro agroalimentare un alimentare verso quella struttura e quanto spazio non abbiamo parlato di spazi e tutto il resto quanto può essere quella ricettività di quel posto lì che non vada a dar danni a far danni con le altre strutture che abbiamo in Guastalla grazie grazie sindaco sì allora quando poi ci sono delle attività commerciali nuove che si insediano ovvio qui il ragionamento è legato alla libera al libero commercio e al libero soprattutto le attività di impresa sono libere e quindi una volta che partono è previsto che ci possa essere la normale concorrenza su questo probabilmente sono stati fatti anzi senza probabilmente chi si insedierà ha fatto degli studi per cui ha ritenuto che ci fosse ancora lo spazio per poter essere appunto per dare per far sì che si insediasse un'attività e che questa attività sia sostenibile dal punto di vista economico forse anche sottraendo una quota di mercato alle attività esistenti ma insomma questo è un po' difficile che noi lo diciamo e che ne abbiamo le prove che sia così tanto il danno da poter appunto danneggiare irrimediabilmente le altre attività io questo proprio non lo penso penso che ci sia anche spazio anche per il posizionamento che questa attività ha all'interno della città cioè è in quella sede intercetta anche popolazione che può venire dall'extra comune e che può appunto raggiungere quel luogo in più questa attività nuova produce 30 posti di lavoro mediamente ecco adesso poi questo quindi vuol dire che 30 posti di lavoro sono 30 posti di lavoro nuovi senza prevedere che i 30 posti si creeranno ad anno delle altre attività ragion per cui insomma credo che dopo è chiaro che poi dipende da quello che sarà la proposta da quello che sarà il prodotto eccetera eccetera ma questo non credo che sia di competenza nostra entrare nel merito di queste questioni assolutamente è ovvio che poi in un mercato libero poi ci saranno delle scelte anche politiche delle altre attività o anche di questa stessa tali per cui si riesca a trovare un equilibrio nel nostro comune insomma quindi su questo io credo che il ragionamento ci sta però non sia la nostra non siamo noi che lo dobbiamo dire poi il mercato farà la sua parte grazie se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto in votazione riqualificazione del complesso aziendale di SMEG SPA istanza di permesso in costruire in deroga valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga astenuti un astenuto io frate contrari nessuno favorevoli il resto dei presenti votiamo anche per l'immediata eseguibilità astenuti un astenuto contrari nessuno favorevoli il resto dei presenti pertanto è approvato e dichiarato immediatamente eseguibile abbiamo esaurito i punti all'onio del giorno quindi vi auguro buona serata e chiediamo la seduta grazie a tutti 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 Grazie a tutti